Buongiorno amici di YouTube, il 21 agosto 2024. Sandro vi racconta, oggi mi trovo lungo questa strada statale numero 43. La strada statale 42 che parte da Bergamo, passando per Edolo e si arriva a Fonte di Legno per poi proseguire verso il Passo del Donale. Oggi è una bellissima giornata, dopo aver pranzato in un ristorante di Ponte di Legno mi trovo in questo bel paesino di... provate ad indovinare, ve lo dico io. Aldo se mi segui, forse tu puoi aver capito dove sono. Sono a Vezzadoglio, in Alta Valle Camonica, forse poco distante anche da te. o se sei ancora in zona. Vi faccio vedere questa bellissima vallata. Guardate che meraviglia. le montagne dell'Adamello verso il Passo del Tonale. Questa è la zona del campo sportivo di Vezzadoglio. qui davanti a me domina un bellissimo murales, fatto da un vero artista. Guarda Aldo che bellissimo disegno, meraviglioso. Oggi godo di un'ottima visione dove è possibile respirare aria salubre e fresca. in fondo si domina parte del ghiacciaio che purtroppo, come tanti, sono in ritiro. Guardate che bellissima pineta che ho qui davanti. Vi saluto da questo YouTube molto fresco. da Vezzadoglio. Saluti da Sandro. E al prossimo.